vogliamo partire su un qualcosa di inusuale per introdurci nel discorso libertà secondo te cos'è la libertà sembra una domanda banale però in questi tempi e la libertà e due cose come spiega bene isei a berlin la libertà da e la libertà di c'è una libertà da alcune questioni che sono preliminari rispetto alla vita la libertà dall'oppressione la libertà dal bisogno la libertà dalla fame dalla seta la violenza quindi è l'aspetto diciamo così assolutamente prescrittivo della libertà quello rispetto al quale nessuno può togliere la nostra libertà e poi c'è la libertà di che la libertà di pensiero la libertà di azione la libertà di elaborazione la libertà di ricerca e che l'aspetto fondamentale dell'umano se una delle due libertà viene meno l'uomo non è più libero ma diventa uno schiavo cioè diventa un servitore un robot una vittima un prigioniero e quindi la libertà è fondativa della stessa condizione umana ecco in questo contesto penso che i diritti umani abbiano il suo posto e certi diritti umani sono inevitabilmente connessi con la libertà se la libertà non c'è non ci può essere nessun altro diritto umano che possa essere libertà possa essere rispettato né la giustizia né l'amore nella relazione interpersonale nella protezione di sé cioè senza libertà non c'è valore che possa essere considerato umano che possa essere mantenuto come lo vedi questo periodo pessimo per la libertà perché nel nome della sicurezza nel nome della salute nel nome della paura si è spesso rinunciato la libertà e quando questo succede non succede mai niente di buono agli esseri umani infatti immaginavo sei al corrente di quest'ulteriore restrizione delle libertà personali che causerà sicuramente l'introduzione del green pass che a quanto pare verrà legato alla tessera sanitaria mi sembra pessimo siamo una pessima idea una pessima cosa vedremo chi si opporrà chi non si opporrà avrà venduto la tua libertà e quella delle future generazioni io non farò alcun green pass però in un certo qual modo saremo censiti lo stesso no ci saranno quelli che hanno il green pass e quelli che non ce l'hanno e quindi è un modo anche questo per censirci per limitare la libertà e magari poter entrare nei negozi nei supermercati viaggiare d'altra parte d'altra parte è una forma di dittatura quella che stiamo vivendo vorrà dire che una parte di noi vivrà come gli ebrei nel 1938 a proposito di ebrei nel 1938 secondo te questa dittatura è un problema esclusivamente italiano o mondiale? è sicuramente un problema planetario perché poi ha come orizzonte tecnologico quello dell'algoritmizzazione dell'uomo attraverso le nanotecnologie e la riduzione dell'uomo a macchina questo è quello che viene inseguito da tempo che programmi come quello della fondazione Melinda e Bill Gates hanno già dichiarato e che è stato già illustrato da Vos quindi parliamo di cose già conosciute Ci sono secondo te dei paesi che al momento sono fuori da questa dittatura sanitaria? Sicuramente la Russia, sicuramente i paesi che sono nella sua orbita alcuni stati degli Stati Uniti, quelli governati ai repubblicani come Texas o la Florida alcuni stati del Middle West, qualche paese latinoamericano come il Brasile e qualcun altro qualche paese africano, anche se lì qualche presidente che si è opposto, ne sono morti sei di file quindi mi pare che la cintura si stia stringendo per la cinesizzazione del mondo Beh Alessandro, stiamo in perfetta sintonia perché sono le stesse cose che stiamo dicendo Ma sono la realtà Sono la realtà, però vedi, non è facile che un personaggio pubblico come sei tu dica queste cose Cioè io non le ho mai sentite Io non so che cosa vuoi dire personaggio pubblico francamente Comunque queste cose le dico dal primo giorno della pandemia Ma riesci a dirle anche in televisione? Scusa non ti riesco a dire No, in televisione no, infatti come vedi sono sparito dalle televisioni generaliste Le televisioni sono interamente controllate dal mainstream Esatto, noi abbiamo fatto un video, abbiamo pubblicato ieri che metteva in evidenza come tutto il mainstream mondiale sia in mano a questa cupola satanica o cabala o diabolica elite Certo, è una cupola che ha radici esoteriche, finanziarie e geopolitiche molto chiare E' possibile vincere questa guerra? Allo stato attuale no, con le forze di questo mondo no Ci mettiamo nelle mani della Vergine Maria e dell'Arcangelo Michele Quindi insomma, solo Dio può tirarsi fuori da questa situazione Solo Dio può liberarsi, come il popolo eletto nelle grinfie del Faraone Avverrà questo? Non lo so, bisognerebbe chiedere alla Vergine Maria Eh, però vabbè dai, insomma, le scritture indicano che è un momento Siamo vicini a questo momento Siamo nel tempo della tribolazione, siamo nel tempo dell'abominio Siamo nel dominio della bestia Forse non durerà per sempre, ma lo vedremo A proposito di bestia, nell'Apocalisse si parla del marchio 666 Chi lo riceveva era in grado di comprare e vendere Di svolgere le varie attività quotidiane Chi non lo riceveva non era in grado di fare queste cose Però con tutta onestà si sarebbero salvati Coloro che non avrebbero preso il marchio della bestia Quello che ci auguriamo, noi che non prenderemo il marchio della bestia Quindi faremo in modo di non ricevere questo marchio Che ancora non sappiamo esattamente cosa sia Si sta intravedendo che ci sono dei sistemi Che stanno impedendo alle persone di fare le attività quotidiane Se non hanno determinati accessori Diciamo così, anche dentro di sé Certo I microchip veicolati anche attraverso le nanoparticelle Saranno lo strumento che verrà utilizzato Insieme alla totale algoritmizzazione del pianeta Anche attraverso la penetrazione di sistemi a 5G ad alta penetrazione Ecco, dal punto di vista psicologico Mi pare che questo momento sia caratterizzato Più che da una fase di depressione generalizzata Da una mancanza di felicità Cosa ne pensi? Mi sbaglio? Mi pare che ci sia soprattutto in giro Una sostanziale disperazione Soprattutto nei giovani E quindi di questo vediamo gli esiti Nella crescita dei suicidi Nel consumo di droghe In una quantità di problemi che si accentueranno ancora di più Via via che andiamo avanti Secondo te il governo non le vede queste cose? Credo che le veda perfettamente E quindi va avanti nel suo piano? Mi sembra di sì Draghi chi è? È complice Che complice direi Mi pare che venga proprio dei vertici Di quella piccola Sì, sì Il gruppo dei 30 Poi vabbè Insomma ci sono varie organizzazioni Bilderberg Eccetera Anche se poi dopo I veri vertici Probabilmente non sono quelli che vediamo I veri vertici sono fatti da superiori sconosciuti Gnoti persino A chi è nei gradi più alti della gerarchia E la piramide Perfetto Secondo quello che tu sai C'è qualcuno in Italia Di questi vertici sconosciuti? Non te lo so dire francamente Non sono così addentro queste dinamiche Da poter sapere alcun che di chiaro Hanno a che fare col satanismo? Questo guardi sicuramente Anzi credo sicuramente Sicuramente Lo possiamo affermare con certezza Sì E quindi è una battaglia spirituale La si può vincere solo con forze spirituali Quindi solo Dio intervendo Bisogna affidarsi alla potenza di Dio Alla Santissima Trinità Alla Vergine Maria All'Arcangelo Michele E con questo pensiero Credo che ci possiamo congedare Va bene Alessandro Ti ringraziamo tanto Un abbraccio forte Questo bel pensiero Un abbraccio Ciao Ciao Lo zinco piccolinato Contenuto in Cicquerzin È la forma più biodisponibile La Baif Quando ha saputo che YouTube Ci ha privato degli introiti pubblicitari E degli abbonati Ha deciso di dare anch'essa Un contributo A favore della libertà Di tutti gli italiani Carissimi amici Del canale YouTube Dentro la notizia Un vivo ringraziamento A tutti voi Che aiutate con le vostre donazioni La libera informazione A tutela del popolo Senza il vostro aiuto Di cui vi siamo Profondamente grati Non potremo crescere E migliorare Il nostro servizio informativo Chi fosse interessato A sponsorizzare La propria azienda Su questo canale Può contattarci Tramite le mail In descrizione Per essere avvisati Sull'uscita dei nostri video Potete iscrivervi al canale Mettere un like Attivare la campanella E condividere i video Più siamo Più forza avremo Uniti si vince Un abbraccio Dal vostro Roby Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti